Siamo tornati nel sottopasso di Viale Regione Siciliana all'angolo con Via Sardegna perché molti telespettatori ci hanno scritto e hanno contattato la nostra redazione per lamentare le condizioni in cui oggi si trova questo sottopasso. Non c'è molto da commentare anche perché le immagini parlano da solo. Come potete vedere il sottopasso è praticamente di fatto al buio perché manca l'illuminazione pubblica che è saltata qualche mese fa e soprattutto ormai da molto tempo non c'è più il gabbiotto che era stato vandalizzato e che poi successivamente ha preso fuoco con l'intervento dei vigili del fuoco. In questi mesi vi abbiamo raccontato quelle che sono le situazioni. Questo sottopasso che è quello che forse è nelle migliori condizioni rispetto agli altri di Via Regione Siciliana è quello più frequentato perché qui passano ogni giorno centinaia di residenti ci sono due scuole che sono molto frequentate e quindi anche da qua passano molti bimbi anche di tenerissima età ma soprattutto per il resto lo vedete è stato vandalizzato e poi lo dimostrano anche le immagini che vi stiamo facendo vedere oggi è giorno e quindi perlomeno si riesce a vedere ma poi di sera questo sottopasso è impraticabile peccato perché è una struttura molto utile ma resta sempre lo solito problema se i sottopassi e i sovrapassi di Via Regione non vengono controllati, monitorati e non hanno una manutenzione ordinaria questa è la fine che fanno. Di positivo c'è che oggi sono intervenuti gli operai della Reset e perlomeno hanno pulito l'aria che era anche molto sporca con tantissimi rifiuti, piccoli passi però il lavoro è a metà serve intervenire soprattutto per bonificare quest'aria e immediatamente dopo anche riportare la luce nel sottopasso.